Oggi andiamo a vedere insieme i cinque simpatici playmat della serie Secret Layer Winter 2023. Partiamo con la dolce gattina Hans Collector. A seguire il solare Crested Sun Mare che fa molto My Little Pony devo dire. E si continua con gli inseparabili Rin and Seri Inseparable. Ed incontriamo una famiglia di simpatici orsacchiotti nel playmat Gorklow. Facciamo infine un viaggio nel paese dei Balocchi con il playmat Exotic Orchard. Cinque diversi playmat tutti molto colorati. Quale di resti è il mio preferito? Dai scrivilo qui sotto nei commenti. E se vuoi far tuo il tuo preferito LBP Connection.it sezione Accessori. Da Boss è tutto ci vediamo alla prossima. Goodbye.